Perciò, nonostante sia cambiato tutto e si sia trasferita lontano, non vi siete mai separate. E questo è il consiglio di amicizia. È per questo che siete tutte qui. Già, alla stessa ora ogni mese. Ciò che intende dire è che è così che governiamo tutte insieme. E che continuiamo ad affrontare ogni problema e minaccia equestria da anni. Ma più di tutto restiamo in contatto, anche se siamo tanto occupate. Ci sono amicizie faticose e mantenerle richiede impegno, ma senza amici può essere tutto più duro. Non avevo mai pensato all'amicizia come a un lavoro, anche se a me non pesa. Immagino che se non sono destinate a svanire e forse fare amicizie non è affatto uno spreco di tempo. Ma sono stata così concentrata sullo studio che non saprei da dove cominciare. Sta tranquilla perché so esattamente come indirizzarti. Quando iniziai andò così, ero insicura e penso fosse la paura. Ma so la verità, sentivo che mi mancava qualche cosa. Anche tu lo vedrai, qui avviene la magia. E per sempre lei vivrà. Le amicizie cresceranno in un legame più profondo. La magia più forte è l'amicizia che è dentro te. Il tempo volerà e passerà, ma sappiamo che la festa ci aspetta qua. Grandi avventure tu scoprirai. Se poi resteremo insieme, più felice sarai. Qui avviene la magia. La magia più forte è l'amicizia, l'amicizia che è dentro te. È un valore che tramanderemo ai più vicini perché Noi crediamo nel potere dell'amicizia che è dentro di te. Se ascolterai l'amore che regna dentro il tuo cuore. Forse tu vedrai l'amicizia che è intorno a te. Ora ascolta il tuo cuore e poi capirai. La magia più forte è l'amicizia che è dentro te. La magia più forte è l'amicizia che è dentro te. La magia più forte è l'amicizia che è dentro te. La magia più forte è l'amicizia che è dentro te. Grazie a tutti.